...dobbiamo rivedere... Noi donne, noi donne, il mondo sta infattendo. Perché? Ma perché la donna, la donna non ha la forza della fede, della speranza, della fede. E allora gli uomini sbandano. E l'uomo è stato partorito da una donna. E la donna deve essere capace di edutare. E poi amare, ma anche adesso i nostri ragazzi. Non fanno niente le mamme. E quando guardo le ragazze tossiche, ma anche quando vedo le suore, perché noi vediamo anche un po' di suore. E che dovete amare sempre, è una mamma. E' un po' di sale che ne vuole tanto. E' un po' di sale che ne vuole tanto. Tutto comodo, tutti comodi. Siamo sempre comodite. E allora, è qualcosa che adesso è diventato proprio qualcosa di negativo. che dobbiamo allontanarlo da noi. Allontanarlo da noi. Che è solo in esso, cioè, porta lo tappo a negativo, fino a me, fino a me. E dovevamo infatti, più oltre, più oltre, più oltre, più oltre, più oltre, più oltre. Che la donna perde la sua dignità, la sua fortezza. La capacità di servire, di servire, di servire. Ma noi siamo capaci, noi donne, siamo capaci di fare dei sacrifici enormi. E quando ne incominciamo, quando ne incominciamo? Qualche volta, dicono, ma però mio marito è così, è così, è cosà. Ma come sta? Ma tu sei una donna. Alla fine bisogna. Tu sei una donna. E sapete la parola più efficace, eh? E quando vi fissa, vi fissiate. Eh? E il silenzio. Se la donna... E state qua e noi salmi a riesca da sentate. E state a fare silenzio, con un sorriso. E noi salmi a riesce a studiare. E a quel sera sto tornando a studiare. E ci sono. E ci sono. Ora e dopo. Dei la parte in famiglia. E state lì, ruoviteli. I ragazzi se ne vanno perché sono stanti, se ne vanno in giro. Perché sentano i genitori che ti fissano. Non ha prima di discutere il giovane stesso. E abbiamo pubblico. Un mormito. Un pulso erotico. E le capo se stavano faccia io. Non è tempo adesso di riconciliazione. Di che giorno. Di abbracciarsi. Guardarsi negli occhi. E abbracciarsi davanti ai bambini. Ai ragazzi. L'ora che gli cederemo al santo. E gli spesso è 10. Vecce va. Sì. Quando gli cederemo. Però prova a abbracciare tua moglie. Sì. 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 Sì.